Per una serata, largo risorgimento a Stornarella si è trasformata in una vera e propria spiaggia, grazie all'impegno delle mamme social. L'associazione di promozione sociale ha infatti allestito, in uno dei luoghi più belli della cittadina e dei reali city, un vero e proprio stabilimento balneare, con sabbia, lettini, giochi e divertimento per i più piccoli, che si sono cimentati nel Baby Beach Party. A seguire, le cuffie ed il suono di tre DJ hanno dato vita al Silent Party, una discoteca silenziosa proposta per la prima volta a Stornarella, con la musica trasmessa in cuffia dalla console centrale. Il tutto è stato accompagnato da prodotti tipici locali, proposti per l'occasione grazie alla collaborazione con alcune importanti realtà stornarellesi, che hanno presentato le proprie prelibatezze in quello che di fatti ha rappresentato un vero e proprio antipasto dell'attesissimo evento Highlight Stornarella, che il prossimo 11 agosto vedrà ospite il cantante Francesco Sarcina, leader delle vibrazioni e legato proprio alla cittadina e dei reali city dalle origini della propria famiglia, come confermato dalla Presidente dell'Associazione, Anna Maria Monaco. Sì, Francesco Sarcina, che è del nostro paese, e ci teniamo tanto, infatti, a promuovere le cose che la nostra terra ci offre, a maggior ragione. Un evento importante dopo quello dell'anno scorso con Cristina D'Avena, ha attesa tantissima gente, quindi vi state preparando al meglio. Sì, speriamo. L'anno scorso è andata benissimo. Quest'anno ci auguriamo altrettanto, se non di più.